Ora stai andando Grazie. Siamo abbandonati da tutti, caro giornalista, non so da dove venite voi, voi ridete, ridete voi, qua c'è il lavoro, fate i giornalisti, fate i giornalisti, questi siete voi giornalisti, prendi la pala, togli la neve di qua, prendi la pala, aiuti a lavorare, non a fare le fotografie, che stai facendo le fotografie? Falo la neve, prendi la pala, togli la neve, qua sono solo i giornalisti che vanno girando senza fare niente, prendi la pala, togli la neve, qua sono solo, che facciamo? Grazie